Ciao a tutti, guardate sul Corriere della Sera, sezione nutrizione, allora vogliamo smascherare un'altra volta e smentire il Corriere della Sera che continua con false informazioni o vecchie informazioni che possono essere pericolose per le persone, per la salute? Sappiamo che la nutrizione è una parte importantissima nella vita, forse la più importante senza cibo moriremmo, più importante della religione è la politica, manipularla, mentire e giocare con fuoco. Allora qua guardate questo articolo, Corriere della Sera, la nuova tendenza pericolosa a mangiare cibi senza, si riferisce senza zucchero, glutine, lattosio, i bianchi di supermercati, anche il colesterolo, guardate qua, pericolosa sicuramente, sicuramente pericolosa per quelle dite compagnie, persone che hanno degli interessi in commercializzare prodotti di bassa qualità nutrizionale, come per esempio tutti quegli alimenti che sono ricchi di ferroidrati, zuccheri, glutine e lattosio. Ma andiamo per parti, andiamo soltanto a analizzare i tre più importanti della nostra dieta. Sullo zucchero cosa dice qua? Consultati gli esperti, dice che la riduzione quotidiana di saccarosio è indicata per chi soffre di diabete, obesità, malattie cardiovascolari, per gli altri bisogna intendersi fino al 10% delle calorie quotidiane da zucchero da tavola è consentito per gli adulti, affirma Silano, questo pseudo disinformato dottore e specialista, ma sembra che non molto specializzato, andate a vedere. Allora, se ci dicono che ci permettono o è tollerabile in 10% le calorie basse di zuccheri, significa che una persona che mangia 1500 calorie al giorno, quel 10% sarebbero 150 che sono tradotti 40 grammi al dì di zuccheri. Allora, vogliamo mangiare 40 grammi al giorno se non essenziale perché ancora si dice che quello rientra dentro il limite di una persona salutare o un organismo salutare? Guardate, allora, nessuno ti dirà che lo zucchero è essenziale o non è essenziale perché non vogliono sicuramente rovinare il negozio multi-iper miliardiario che è come quello dei zuccheri e come quello dei cereali e delle piante, dei coltivi agricoli. Perché allora ci dicono che è fino a 40 grammi al dì? Immaginate una persona che mangia 2000 calorie al giorno che la persona normale, un uomo normale di un metro e 80. Se non è sportivo, essendo sportivo, mangiare con 3000 calorie. Allora, da quelle 3000 calorie, il 10% sono 300 calorie. Allora, 80 grammi al giorno di zuccheri bianchi che sono privi di qualsiasi, di qualsiasi nutrimento. Sono calorie vuote, calorie vuote che è la cosa migliore che hanno, diciamo, perché sono molto pro-inflammatori, producono un danno importantissimo alla salute che alla lunga può essere molto rischioso. Per quello questi qua ancora predicano il discorso vecchio di quello delle prime dite, delle prime decisioni di basare la nostra dieta con una dieta a base di cereali e piante che ormai è stata esmentita categoricamente negli ultimi anni ma che ancora si resistono a divulgare questi del corriere della sera. Andiamo all'altro, cosa verdaderamente scandalosa. Dici qua che, allora, se rinunciamo ai latticini, questo comporterebbe una rinuncia a elementi come il calcio, il fosforo, importanti per le osse fino ai 25 anni d'età, dici che sono importanti, allora dopo no. Dici qua che c'è fino a quando lo scheletro in costruzione è importante, ma le persone adulte, dopo la crescita, se vogliono, possono farne a meno, senza particolari danni, ma questo è una pazzia. Sappiamo che fino agli ultimi giorni nella nostra vita abbiamo bisogno di calcio, sempre avremmo delle osse fino all'ultimo giorno e più ne avremmo quando siamo vecchi perché l'assorzione è molto, si riduce tantissimo. Addirittura il calcio proveniente dalle piante, come sappiamo, come le piante contengono tanti antinutrienti, quel calcio lì, quel calcio, i minerali, sia il calcio fosforo, ferro, il magnesio, lo zinc, non è completamente assorbibile, non è biodisponibile per il corpo perché ci mette tantissimo a essere assorbito, perché la quantità è molto bassa, perché questi minerali vengono uniti alle molecole particelle degli antinutrienti delle piante, chiamate ossalate, chiamate acido fitico, chiamate saponine, chiamatele come volete, ci sono tantissime molecole antinutrienti nei questi alimenti. Capito? Allora un'altra pazzia che dicono, passiamo alla terza pazzia. Per esempio, allora, adesso contro le persone che vogliono mangiare senza glutine, come sappiate il glutine è un complesso proteico di alcuni cereali. Questi complessi proteici sono di difficili attorsioni per l'1% della popolazione che rientra dentro di quei problemi genetici contro il glutine. Allora, l'uso di prodotti gluten free può comportare, dice, qualche inconveniente per la linea. Perché? Se non mangi glutine forse mangerai anche meglio. Perché? Qua dice un'altra cosa stupida, i prodotti senza glutine in commercio possono essere, certo, possono essere tantissime cose, però loro prendono quelli che vogliono vedere l'oro. Possono essere più ricchi di calorie, perché sono in genere addizionati dei grassi. Hanno un minore effetto stasiante. Questo non è certo, ovviamente, più grassi ne hanno, sono più stasianti. E in più un alto indice glicemico, neanche è certo, dipende anche della formulazione dei prodotti. Non tutti i prodotti senza glutine senza glutine hanno un indice glicemico alto che comporta un maggior aumento dello zucchero nel sangue. Ok, allora, quelli che mangiano pizza, pasta, non comportano un aumento dello zucchero nel sangue? Allora vogliono loro continuare con questo discorso di che è alla base della dieta, della salute, della ottima salute? Ci sono ancora dei cereali, delle piante? Ancora continueremo quando ci sono tanti studi che dicono il contrario. Conoscono loro la dieta cetogenica? La conoscono o non hanno mai sentito parlare? Low carb diet? Le hanno mai sentito parlare? Allora, andate a investigare, per favore, perché questo è troppo vecchio. Siamo nel 2019 e può causare dei grossi problemi alla salute pubblica. Allora, stop, corriere della sera. Siete troppo fuorviante, state commettendo un atto quasi criminale, divulgando informazione falsa, sapendo che ci sono degli studi che dicono tutto il contrario. State confondendo le carte, mischiando le carte, oscurando le acque. Allora, per favore, corriere della sera, finite qua. Allora, per ultimo volevo soltanto citare qualche studioso, se volete andare a ricercare le delle fonti, andate a cercare Eckberg in YouTube, Dave Feldman, un importantissimo studioso anche sullo del colesterolo, Paul Mason, Gary Toibes.